ciao ragazzi oggi è giovedì io sono thomas renda vi trasmetto direttamente da crossfit bareggio e questo è c per tv oggi andremo a vedere la prima parte che è una parte di forza per il petto e poi andremo a fare un workout in team il marf la prima parte è 3 rm di bench press come facciamo ci andiamo a scaldare tranquillamente due serie 10 secondi di vogo 5 push up per 32 barra tre volte poi andiamo a metterci sulla panca inizieremo con il bilanciere scarico mi raccomando ricordatevi bene la spinta arriva da tutte le spalle il petto andiamo aiutarci anche con i tricipiti non vi perdete e non vi chiudete mi raccomando quando andiamo a fare i tre colpi partiamo col bilanciere scarico aumentiamo piano piano fino ad arrivare ai tre colpi massimali il workout è facilissimo marf sono 1600 metri di corsa da dividere in due quindi trovatevi un compagno non secco ma neanche tanto grosso e ve li dividerete in due 800 metri a testa poi saranno da fare 100 pull up 200 push up e 300 squat e poi ancora 1600 metri di corsa mi raccomando il workout è da dividere in due quindi trovatevi un compagno che vi aiuti su tutti su tutti gli aspetti del workout divertitevi e cercate di non svenire